dato che mantengo quello che dico come si dice ho comprato non comprato con i soldi un il personaggio che vi avevo detto che sarebbe lui per thumb che sarebbe quello lì da 600 monetini e non ho comprato flow da 900 e li andremo pure a provare prima io con flow e il ctq con bro thumb poi li incontro andiamo e volevi eh primo round ce la portiamo a casa noi flow con i baffi e con il cappello di Luigi con la F ovviamente perchè è flow e poi tra l'altro flow dovrei conoscerlo come youtuber se non sbaglio dovrei aver già visto qualche suo video la prima con flow è andata benissimo non so bene quanto è durata c'è poco in soltanto allora andiamo a fare l'inverso io con bro thumb e lui con flow quindi via vorrei sapere una curiosità giusto così per sapere scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi ha mai visto l'attacco di giganti sta prendendo perchè mi stavo facendo battere o direte ma perchè mi eh perchè mi mi interviene beh comunque nei commenti iscrivetevi lasciate un commento non nei commenti iscrivetevi non frantellete la frase iscrivetevi lasciate un commento mi piace che ho perso grande per poco e poi le commenti iscrivetevi che ho visto di voi e ovviamente ce n'è qualcuno che ha visto l'attacco di giganti eeeh volevi eh volevi guarda che perdi vai 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 eh volevi eh guarda che lezzo sotto le cose ovviamente questo video è finito iscrivetevi un mi piace e un commento ovviamente se mi piace eeeh come si dice ti che mi sono letto un altro video su thumb fighter o addirittura una serie dove mano a mano fare prisa vi sblocchiamo tutti i personaggi ok ciao